Uno studio condotto sul territorio abruzzese ha dimostrato le caratteristiche delle violenze consumate sul territorio. Solo sull'area di Pescara sono stati aperti 10 sportelli antiviolenza, dove l'associazione del Movimento per la Vita, presente ormai da più di 30 anni sul territorio nazionale, stila un resoconto delle modalità e della capillarità del fenomeno. Il discorso della violenza è stato portato, come dico sempre, attraverso un nastro che nella città si è sviluppato da Pescara a Colli fino a Fontanelle. Dobbiamo lavorarci ancora sopra, nel senso che parlare delle violenze subite o delle violenze a cui si è assistito non è facile, ma noi abbiamo lanciato un messaggio alla città. Pescara non vuole essere una città violenta e quindi in rete, con tutti i servizi, dal pronto soccorso dell'ospedale, alle altre associazioni che ci lavorano, alla questura, alla polizia, insomma al comune eccetera, vogliamo che questa città non accetti la violenza, non che non la viva, perché ovviamente i casi ci saranno sempre, ma che non la accetti e si occupi in maniera anche forte di arginarla. Secondo i primi dati è Sulmona a rappresentare l'area più critica. Le violenze, sia di tipo fisico che psicologico, si consumano sempre dentro le mura domestiche, a volte in famiglia, a volte nelle relazioni di coppia, continua ad essere la comunicazione la nota dolente di ogni caso, la violenza sfocia laddove si desidera prevaricare l'altro o imporre la propria superiorità. Quello che abbiamo registrato è una difficoltà alla relazione, o all'interno della famiglia o all'interno della coppia, e quindi sia le problematiche giovanili che riguardano atti di bullismo o quant'altro all'interno delle realtà giovanili, o peggio, direi peggio, atti di violenza all'interno della famiglia.